Nuove opere per una città che cresce è lo slogan del progetto complessivo illustrato dal sindaco Seri e dall'assessore Cucchiarini che si concentra su investimenti connessi ai lavori pubblici, al decoro della città e alla qualità della vita dei cittadini assicurando una maggiore sicurezza. Grazie a una variazione di bilancio verranno investiti circa 7 milioni di euro. Di questi quasi 900 mila saranno destinati al patrimonio, fanno parte del capitolo la riqualificazione di piazza Marcolini, della fontana di piazza 20 settembre e dei muretti di Ponte Sasso. Un'attenzione è rivolta anche allo sport con il nuovo campo da calcio al vallato e alle aree verdi a cui sono dedicati 600 mila euro relativi al secondo e terzo stralcio del parco urbano e 150 mila per la riqualificazione di aree gioco e parchi. Sono in programma anche la progettazione dell'operazione Waterfront e il rifacimento dell'impianto termico della scuola media Padalino ingente poi sarà il piano di miglioramento delle strade. Innanzitutto un piano di asfaltatura importantissimo da 3 milioni 700 mila euro che va a concentrarsi su tutti i quartieri della città anche quelli più periferici con l'intento non solo estetico ma anche e soprattutto per mettere in sicurezza le strade per le auto, per le bici ma anche per i pedoni che le attraversano. Ricordiamo che un intervento così importante non si realizza in questo comune dal 2015 quindi ecco ci sembrava doveroso andare a mettere in campo un'operazione di questo tipo. Abbiamo poi finanziato un'importante infrastruttura che è quella la realizzazione della rotatoria del Codma che andremo a realizzare come uno dei primi interventi di questa tranche di opere che abbiamo finanziato. Inoltre ha proseguito Cucchiarini 100 mila euro verranno utilizzati per i Cepedi del Vallato mentre 85 mila per l'abbiglimento e la sistemazione della rotatoria di Sant'Orso all'ingresso della città. Stiamo attendendo, ha poi annunciato l'assessore, l'autorizzazione della prefettura per le infrastrutture mobili e semimobili tra cui gli autovelox che verranno installati a Cucurano e a Fano Sud come a Metaurilia e a Ponte Sasso. Abbiamo finanziato in questa variazione di bilancio altri 150 mila euro di interventi per la sicurezza stradale con progetti che dovremmo andare a definire, sono in corto di definizione, in un lavoro congiunto perché non può che essere così, fra viabilità e polizia locale che è sulla strada e che ogni giorno registra tantissimi e sempre più numerosi incidenti. Gli impegni che avevamo assunto, ha commentato invece il sindaco Seri, vengono tutti mantenuti. La pandemia ha rallentato alcuni processi ma ora spingiamo sull'acceleratore per concretizzare interventi ambiziosi e vitali. Veramente tanti nuovi progetti che si uniscono a quelli che sono in corso, non sono sostanza perché finanziamo le risorse con questa variazione e dentro il 31-12 andremo ad appaltare in modo tale che a iniziare dalla primavera inizieranno i primi lavori di queste nuove opere di riqualificazione, di manutenzione, quindi una città più bella, una città in cammino, una città che cresce sempre più.